Buongiorno ragazzi, oggi vi voglio fare vedere come realizzo una pin-up all'interno di una tavola di un mio nuovo fumetto. Quindi, se volete sapere i fumetti che faccio, questo è un fumetto per adulti, andate sul mio sito, sul sito di Cronaca di Topolinea che pubblica i miei fumetti. Per il resto potete vedere questo video perché questo disegno ovviamente è normalissimo, non che gli altri siano normali ovviamente. Ciao! Ma sì, ma perché no? Facciamo anche un video di come coloro questa pin-up che fa parte di una tavola del mio nuovo fumetto. Però non vi posso far vedere tutto, almeno su YouTube. E andiamo! Sto colorando l'incarnato, la pelle, con il Copic. Io faccio di solito prima la parte un po' più scura, quella che voglio che sia un po' in ombra, e poi dopo faccio quella chiara. Non so se è un metodo, diciamo, che usano anche altri, ma io faccio così. E quindi, in questo modo riesco a dare un po' di tridimensionalità. Una parola che mi piace molto dire nei miei video, come incarnato. Parole che non uso mai, ma mi piace dirle nei video, so perché. Adesso, con il Copic più chiaro, nel color carne, vado a fare il resto della pelle. Disegno e coloro le mie tavole originali, dei miei fumetti e illustrazioni varie, su carta Fabriano F4 33x48 liscia. Con questa carta mi trovo molto bene per usare i markers. Comunque, i materiali che uso sono le classiche matite, soprattutto il portamine, HB, poi magari una matita anche più morbida, tipo la B o la 2B. Poi ricalco la matita, o meglio la china, col tavolo luminoso in un foglio a parte. Quindi ho due fogli come risultato, uno con la matita definita e un altro con poi la china, che in seguito coloro. Per realizzare il tratto a china, uso dei pennarelli, tipo i Micron, PN della Pigma, i Pigment Liner della Girben, i Winsor & Newton, i Tombow, e poi anche alcuni altri colorati, tipo i Stabilo. Per realizzare invece il colore vero e proprio, uso soprattutto una tecnica mista, con markers, soft pastels, magari a volte coline, a volte tempera, penna gel bianca. Come markers uso i Promarkers, poi anche i Girben e i Copic, prevalentemente, ma non solo. Secondo me l'unione di queste marche rende bene, perché comunque ci sono dei pennarelli markers più coprenti, altri meno, ed insieme riesco a ottenere gli effetti che mi piacciono di più. Poi uso appunto i Soft Pastel, soprattutto per fare questo benedetto incarnato, e soprattutto lo uso, quindi Rosa, della Rembrandt. E molte volte coline, come dicevo, o tempera bianca, magari per fare determinati effetti, ma non è questo il caso. E poi la mia fedelissima penna gel bianca, che mi serve a dare le luci. C'è da dire che questa tecnica con i markers, soprattutto, è piuttosto cara, perché, come potete ben sapere, se siete appassionati o comunque professionisti del disegno, nel disegno, i markers sono abbastanza salati, come costi, e quindi, ecco, valutate anche voi, in base a ciò che avete, quello che vi tro... la tecnica che vi può interessare di più, e che è più funzionale a ciò che volete fare, e alle vostre possibilità. I markers sono cari, alcuni hanno la ricarica, tipo i Copic, però anche queste sono abbastanza, diciamo, poco economiche, almeno per le mie tasche. Io non nasco come colorista, sin da piccola ho voluto fare la fumettista, perché comunque il fumetto è l'unione tra disegno e storia, ed era ciò che mi piaceva fare, perché come tanti bambini leggevo fumetti, mio papà me li comprava e li leggeva a sua volta, e quindi desideravo fare la fumettista da grande, e ho sempre lavorato in questa direzione per poter realizzare il mio sogno. Poi dal 2005 ho iniziato a collaborare con Cronaca di Tupolinia, sono nati i primi fumetti, e poi da quando era uscito un fumetto in particolare, che era Crazy Tribe, avevo iniziato anche a colorarmelo, e avevo iniziato, cioè, in teoria, inizialmente volevo colorarlo con magari le matite, con gli acquarelli, però vedevo che non mi trovavo abbastanza bene, mentre i markers mi danno quella sicurezza che non ho ancora riscontrato con altre tecniche, ecco, magari con i pennelli o magari con altre cose. I markers sono più pratici per me, però non è detto che si adattino a voi, nella loro totalità, dovete un po' fare le vostre valutazioni e vedere. Comunque, da allora sono usciti tantissimi i miei fumetti, e insomma, il tempo è passato, le pubblicazioni sono state tante, mi sono un po' evoluta e impratichita, perché la pratica cambia totalmente tutto, e quindi con impegno e esperienza acquisita nel tempo diciamo che ho fatto mia questa tecnica e adesso sono, diciamo che la gestisco abbastanza bene e quindi anche nel caso che mi trovo a sbagliare determinate cose ho sempre un po' l'arte di arrangiarmi, anche se è una cosa fatta su carta, quindi è più difficile magari tornare indietro se si fa un errore, ma, appunto, si riesce sempre in qualche modo a sistemarla, ecco, per fortuna, sperando adesso di non fare danni. Una volta che poi ho terminato la mia tavola, la scansiono con il mio scanner di 140.000 anni fa, e poi col computer, con Photoshop, cerco di renderla più fedele possibile a quello che è l'originale. difficilmente aggiungo degli effetti particolari, se non in tavole che proprio lo richiedono, e quindi ecco, spero sempre che il risultato poi in stampa sia il più vicino possibile a quello che era il mio gusto estetico e di colore e le mie scelte su carta. Devo dire che però si avvicinano quasi sempre, anche se è ovvio che l'originale è un conto, la stampa è sempre leggermente diversa, soprattutto trattandosi di un originale, però sono abbastanza soddisfatta dei fumetti che sono usciti nel corso degli anni, a parte qualche eccezione che ci sta. Quello che sentite è il suono della disperazione, perché questo marker sta morendo, e purtroppo al momento non ho un altro colore uguale, devo assolutamente andare a comprarlo, dove mi svenerò al negozio d'arte dove vado, ma va bene così, la vita è fatta anche di sofferenza. No, sto scherzando. Beh sì, no, in realtà è vero. Naturalmente se vi fa piacere farmi domande a riguardo a come realizzo e come disegno coloro o com'è la mia vita da folle, da fumettista, fatemi pure tutte le domande che volete. Ovviamente, beh, non c'è bisogno di dirlo, ma bisogna dirlo a quanto pare, perché se non lo chiedi non lo fa nessuno, così mi insegnano i social media manager che ne sanno più di me su questa cosa. Bisogna sempre chiedere a chi ti ascolta di magari mettere un like, mettere un commento, condividere, insomma, fare una danza della pioggia, fare col che vogliono, in modo tale che il tuo canale... Ah, ovviamente di iscriversi al canale, questo canalino che per ora è piccolo, ma spero crescerà, perché nel tempo ho intenzione di metterci diverse cose, contenuti magari proprio mirati per YouTube, perché molti li avevo già postati sugli altri miei social, che vi invito a seguire anche quelli, vi invito a fare un botto di roba, sì lo so, mi invito a fare troppe cose, me ne rendo conto, però iscrivetevi anche a questo canale se non siete già iscritti, se siete iscritti bravissimi, e se non lo siete e vi volete iscrivere, bravissimi lo stesso. Beh, dicevo che vorrei mettere dei contenuti ad hoc per YouTube, quindi se avete anche idee, magari per futuri contenuti, fatemelo pure, che mi fa molto piacere, cioè, ditemi pure ciò che vi piacerebbe vedere, ecco questo intendevo, magari, che ne so, io stavo pensando anche di raccontare un po', che ne so, chi sono, cosa faccio, perché in effetti mi sono resa conto che mi sono buttata qui, riproponendo cose, magari che avevo già postato, sugli altri social, e qualche video nuovo, però in effetti senza presentarmi assolutamente, almeno per YouTube. Un bellissimo softpasters della Rembrandt, e un batuffolo di cotone, faccio questa cosa qua, cioè lo cuccio per far entrare il colore nel batuffolo, altrimenti posso farlo anche con un cotofioc, per i pezzi piccoli, e poi passerò sopra un pezzo di scottex per levare il più. Adesso io con questo pezzettino di cotone fioc andrò a fare un po' di sfumature nel viso, per far uscire un po' le parti più rose, le parti che voglio che siano un po' in ombra, oppure un po' più colorate. e poi ovviamente, come dicevo anche prima, le parti che, cioè l'eccesso di softpasters che avanzerà, perché ora sembra una ragosta, ma ovviamente, poi passandoci sopra la scottex andrò a levare l'eccesso e quindi sarà un colorito normale, non da ustione di terzo grado. Andiamo a rimuovere con la nostra scottex i residui di colore di softpasters che non vogliamo che ci siano, perché sennò la poverina sembra aver messo poca crema protezione 50. e vediamo cosa usci fuori. È un po' difficile fare questa operazione quando con l'altra mano tieni il cellulare e non puoi tenere il foglio fermo, ma con due mani sarà tutto molto più facile se ci volete provare. Chiusto? Giusto? E mettete a fuoco. Mettete a fuoco! Ok. Usa il mio solito copic lilla per fare le ombre più leggere. Spero anche di tenervi un po' di compagnia con tutto questo chiacchiericcio, mi rendo conto che sto parlando veramente tanto, ma magari, non lo so, ci potrebbe anche essere qualche video solo con la musica o con i rumori rilassanti, ma volevo anche un po' raccontare. Dopo aver fatto le ombre più chiare, con questo facciamo le ombre più scure. è un grigio abbastanza oscuro della Copic, anche se non è che abbia tantissime ombre scure questa pin-up. Però ecco, per dare sempre un po' più di tridimensionalità. Mi viene da ridere perché continuo a dire incarnato e tridimensionalità in questi video, perché devo trovare i sinonimi di queste parole, perché non sono parole che di solito uso normalmente nel colloquiale, ma vabbè, nei video sì. Incarnato, tridimensionalità. E sarebbe bello avere un cellulare che ha la telecamera, nel senso che io riesco a guardarlo, senza che sembra che sto guardando da un'altra parte. Oddio, fa queste cose tecnologiche. Ma a parte lo sclero, forse mai io tornerò al disegno. Le mie ombre con questi due loschi figuri le ho fatte. Adesso l'ultima parte, di questa pin-up che dovrò fare sono le luci. Eccoci qui con la penna giall-bianca per fare tutti i dettagli di luce. Anche qui, come per tutte le cose, è una questione di gusto. A me piace fare i lucichini, i riflessini sugli occhi, sulle labbra, sulle guanciote, su tutto. e mi rendo conto che uso anche il bianco un po' come il contorno. Ecco, quindi io lo uso parecchio, parecchio. Perlomeno, per quanto riguarda la tecnica che uso su carta, ma comunque, io poi, quello che faccio in digitale, praticamente, cerco di rifare ciò che faccio su carta anche in digitale. Una volta questo passaggio lo facevo col pennellino e la tempera, però, per dettagli molto molto piccoli, come quasi sempre accade nelle mie tavole, perché comunque si tratta di tante vignette che comunque sono piccole, mi viene molto meglio avere un tratto più sottile e preciso come quello appunto della penna gel. Ecco, il disegno è finito, adesso vi faccio vedere il risultato. di questa pin-up di Alice che fa parte di una tavola. E niente, spero che vi sia piaciuto. Ciao! Fatemi sapere nei commenti se vi è piaciuto e mettete un like se volete vedere altri video tipo questo. Ciao, 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 ciao! Sono dimenticata inizialmente di farvi vedere anche la versione a matita, perché io faccio prima la tavola a matita su un foglio, poi la ricalco col tavolo luminoso che è questo simpatico oggetto qui, scusate il caos infernale, e poi ricalco la china, diciamo, il tratto pulito e poi ci vado a colorare direttamente sopra come avete potuto notare amabilmente in questo bellissimo video che dura quanto tutta la vita di Nicolas Flamel e basta la finiamo? ma no dai ci piace in fondo riguardando il video sono rimasta un pochettino così perplessa perché tornando indietro prima delle ombre che avevo fatto con questo bellissimo copic lilla e poi con questo grigio grigione mi sembrava che rivedendo il video fosse più carino addirittura senza ma io sono abituata nei miei fumetti nelle mie illustrazioni a fare sempre il passaggio delle ombre con questi qua e poi le luci con la penna gel bianca questa amica mia però rivedendolo non so sono rimasta un po' tipo forse era meglio prima ma è solo una questione del video forse delle luci che vengono fuori dal video oppure ditemi anche voi cosa ne pensate giusto per avere un'idea anche se ormai ovviamente il fumetto lo continuerò così perché non è che posso fare una pagina in un modo o in un'altra però per il futuro magari ci rifletterò un po' perché a volte forse meno è meglio oppure no oppure dà più l'idea di tridimensionalità dell'incarnato ciao fatemi sapere se vi piace questo video grazie e se non vi piace non vi piace comunque ho scoperto l'arcano ho scoperto perché mi dava tanto fastidio perché io di solito uso questo che è il C5 però avevo usato la ricarica che è un C6 esatto e quindi è leggermente più scuro del solito e quindi mi disturbava questa cosa beh stavolta ho finito veramente il video ciao non c'è una non c'è una Grazie a tutti